E' qui e sta bene con noi. Speriamo che questa vicenda finisca nell'interesse migliore di questo minore. Sta bene il bimbo ritrovato nella notte dell'Epifania nell'androne di una palazzina di Via Po nel quartiere di Saione, a prendersi cura di lui adesso il personale medico del reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, al quale il Tribunale dei Minori di Firenze, con un prevedimento provvisorio e urgente, lo ha affidato, ma a breve potrebbero esserci ulteriori provvedimenti del giudice che in questo momento ha sospeso la patria potestà. La nostra macchina sta funzionando bene ancora una volta e quindi stiamo assicurando l'assistenza del piccolo sia nelle ore diurne e anche, cosa più difficile, per le ore notturne. Il piccolo era stato trovato da alcuni ragazzi dentro un ovetto che avevano così allertato polizia e 118. I genitori lo avrebbero lasciato lì, poi si sarebbero allontanati assieme al fratellino di un anno e mezzo e al loro ritorno non l'avrebbero più trovato. Era stato poi lo stesso papà a presentarsi al pronto soccorso dicendo di aver dimenticato il figlio. Non era ipotermico perché uno può immaginare una serata fredda di gennaio, il bambino non era fuori, non era alla ghiaccio, è arrivato in condizioni buone di benessere, temperatura corporea normale, ben vestito, quindi non era raffreddo, non aveva e non ha segni di maltrattamento. Immediatamente era scattata la macchina degli accertamenti e il conseguente iter giudiziario con l'attivazione del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali. Adesso anche il fratellino è stato temporaneamente affidato alla pediatria. L'amministrazione comunale Aretina si era subito detta pronta ad aiutare i piccoli e la famiglia, ma nei figli e nei genitori sarebbero residenti nel comune di Arezzo. La madre risiederebbe nel Basso Casentino, il padre invece in un comune del Lazio. I servizi sociali del comune di Arezzo si sono così messi in contatto con i due comuni interessati. È chiaro che l'aiuto non può mancare neppure per questa mamma e questo babbo, che in qualche momento di difficoltà evidentemente l'hanno avuto. Proseguono infine le indagini della Polizia di Stato, nel tentativo di cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto quella notte.